Sì, ero per avvisarti, ma sono d'accordo, ci mandano giù. Mi fai un whatsapp con un amante che lo mando a Torino per lì. Ha un audio? No, no. Mi scrivi? Mi mando il testo. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti